Altri 348 migranti sono approdati nel pomeriggio di ieri a Portempedocle. Gli stranieri, tra cui 46 donne e 18 minori, sono in maggioranza provenienti dall'Eritrea e dalla Siria e sono stati soccorsi nel canale di Sicilia dal mercantile Alpine Eternity. I migranti sono stati trasferiti nella tenso struttura di Portempedocle, riaperta nonostante da tempo sia stata dichiarata inidonea a ospitare i profughi. È auspicabile, dice il sindaco Lillo Firetto, che quanto dichiarato dalle Nazioni Unite sul sostegno internazionale cui ha bisogno il nostro paese per uscire da questa emergenza, abbia un seguito immediato. Proprio ieri il deputato nazionale del PD, Tonino Moscat, intervenuto alla Camera, aveva lanciato l'appello di proclamare subito lo stato di emergenza. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi sono 7.437 i migranti sbarcati a Portempedocle in occasione di 23 operazioni di sbarco-trasbordo coordinate dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, che hanno coinvolto 26 unità navali, cui si sommano altri 1.139 migranti trasferiti a Portempedocle con la nave di linea per le isole Pelage.